Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla bocciatura in prima commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge sui nuovi confini territoriali. Gela, Niscemi, Piazza Armerina, Licodia e Ubea non emigrano e rimangono dove sono nonostante i referendum confermativi e i sì dei rispettivi consigli comunali. Incontri, dibattiti, trasferti a Palermo, volantinaggio, referendum, soldi spesi e il sì dei rispettivi consigli comunali. Gela, Niscemi, Piazza Armerina, Licodia e Ubea si staccano dalle rispettive ex province per approdare alla città metropolitana di Catania e al libero consorzio di Ragusa. La volontà popolare è sovrana, almeno così dovrebbe essere, ed invece non lo è, perché ieri alla prima commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, presieduta da Salvatore Cascio, si è consumato un delitto perfetto. Tutto rimane com'è. Dalla serie abbiamo scherzato. I componenti della commissione, si tratta di 12 deputati, hanno detto no. Per l'esattezza, due si sono espressi in maniera positiva. Si tratta dei Grellini, Francesco Cappello e Matteo Mangiacavallo. Due erano assenti e gli altri otto hanno negato l'emigrazione nell'area metropolitana etnea delle città che ne hanno fatto richiesta. Due sono del PDR, tre del PD, uno del PSI, uno dell'Udc e uno di Forza Italia. La prima commissione sottolinea che i referendum consultativi erano stati celebrati in base alla legge che prevedeva sei liberi consorsi comunali e tre città metropolitane. La legge, però, su contestazioni del Consiglio dei Ministri, fu cambiata per adeguarsi alla riforma del Rio, che prevede invece liberi consorsi comunali al posto delle province minori e le città metropolitane per Palermo, Catania e Messina. Per la prima commissione affari istituzionali e il referendum, dunque, fanno riferimento ad una normativa che è stata già abolita. Inoltre, la stessa commissione ieri ha ritenuto che non bastava la volontà popolare per cambiare provincia, ma che serviva anche il quadro completo dei debiti e del personale che andrebbero caricati sulla città metropolitana, mettendo a serio rischio l'esistenza di Caltanissetta ed Enna. Parabola significa che al momento attuale tutto rimane com'è. Dunque ci chiediamo, ritornando al punto di partenza, a cosa sono serviti il referendum e le innumerevoli sedute dei vari consigli comunali per assecondare le richieste dei cittadini e le trasferte a Palermo e i soldi spesi? Rimaniamo senza parole. E' come se nel calcio, a modo di esempio, dove avrei vinto tante partite, si giungesse alla finale per poi sentirsi dire il regolamento è cambiato. E' tutto nullo. Avere giocato solo per passatempo. Per Maria Ferrera, di Reset 4.0, bocciando i disegni di legge presentati dal governo centrale, che avevano lo scopo di ridefinire i confini delle province, si ammette, di conseguenza e senza nessun pudore, che la volontà popolare decretata in una calda giornata d'estate, era il 13 luglio del 2014, vale assolutamente nulla. Si tratta di una umidazione per il popolo gelese che tanto ha fatto e che ci ha creduto fino alla fine. Questa è un'ulteriore occasione mancata per quella politica e per quei parlamentari che dovrebbero avere a cuore il mandato di rappresentanza che gli è stato dato. Un enorme abuso tradita la volontà popolare espressa col referendum di luglio. In questo palazzo è stato inferto un nuovo colpo mortale alla democrazia. Lo dicono i deputati del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, Matteo Mangiacavallo e Francesco Cappello, in merito alla bocciatura in prima commissione del disegno di legge governativo, che ridisegnava i confini dei liberi consorsi, con il transito di Gela, Piazza Almerina e Niscemi, alla città metropolitana di Catania, e che assegnava Licodia e Obea a Ragusa. E' vergognoso, affermano i due deputati grillini, la commissione ha fatto un enorme abuso. Doveva solo limitarsi a ratificare quanto espresso dai cittadini, chiamati a votare il referendum, ed invece ha ribaltato la loro decisione con risibili giustificazioni e la morte della democrazia. In pratica si è ribadito che la volontà popolare per questa classe politica non conta nulla. Ricordiamo, proseguono i deputati del Movimento 5 Stelle, che questo referendum ha avuto un costo. Chi ha votato no, ora dovrebbe risarcire i comuni delle spese sostenute. E tuona il sindaco di Gela, Domenico Messinese, per il primo cittadino si tratta di un agguato mortale alla democrazia partecipata. Un agguato mortale alla democrazia partecipata. Sull'altare degli individualismi di Velluto è stata imbolata la volontà popolare. Non usa giri di parole il sindaco di Gela, Domenico Messinese, in merito alla bocciatura in prima commissione all'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge che sanciva il passaggio anche del comune di Gela alla città metropolitana di Catania. Per Messinese siamo vittime di un subdolo tradimento. Fregandosene della legge sostanzialmente che loro stessi hanno fatto, che il parlamentare all'Asso hanno fatto, con interpretazione del tutto personale, hanno deciso di infischiarsi nella volontà dei Gelesi. Non sono con i cavielli burocratici che si applica la democrazia. C'è una grande volontà dei Gelesi di affacciarsi a un territorio a loro più affini, come quello di Catania, e rallontanarsi a un territorio come quello di Catania di Sesta, dove in realtà negli ultimi anni, fino agli ultimi giorni, si sono avuti solo contrapposizioni. Di conseguenza questo atteggiamento della prima commissione è spiegabile se non voler assecondare il volere dei partiti e non quello del popolo. La politica è essere a servizio della popolazione, non essere asserviti a delle lobby partitiche. Per lo sindaco di Gela lo strappo tra deputazione regionale e cittadini è oramai evidente. Non ci arrenderemo noi come non ci arrenderemo i Gelesi. Anzi, più ostacoli stanno mettendo, maggiore è la forza di voler arrivare all'obiettivo. Questa ostazione di voler a tutti i costi impedire il passaggio di Gela, Caltanissetta, la città metropolitana di Catania è una conferma che siamo soluzione giusta e a qualcuno per interessi che non sono ben chiari, sicuramente un passaggio. A me interessa fare gli interessi di molti e non quello di poco. Quindi non ci arrenderemo sicuramente adesso e nel domani. Dunque, sindaco, cosa sarà fatto per ridare la speranza a chi ha detto sì alla migrazione a Catania? Ci sono delle vie legali da intraprendere, e ci sono delle manifestazioni da poter avviare. Questo è un lavoro che faremo di concerto con i sindaci di Miscemi, Piazza Merina e San Di Rico di Obea, dove già ci siamo raccordati ieri sé. Vedremo quali sono le azioni da intraprendere nel migliore modo possibile. È chiaro che la democrazia non si può far calpettare da alcuni politicanti di mestiere. Per il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, però non tutto è perduto. Sentiamo il perché. Vorrei tranquillizzare chi ci sta ascoltando e tutti i cittadini gelesi. Quello che è successo ieri è di un'infamia che solo poche persone al mondo possono fare e che però molte di queste persone risiedono in Sicilia. Quello che è successo ieri è la bocciatura del disegno di legge in prima commissione affare istituzionale. È già una cosa abominevole di per sé, ma non è che si è bocciata il processo di migrazione per Catania. Il disegno di legge è bocciato e ritorna alla presidenza della Regione. La presidenza della Regione cosa può fare? Prendere atto delle leggi vigenti. Voglio ricordare che le leggi non sono state modificate, quindi sono ancora in vigore. Prende atto delle leggi 15 e rinvia nuovamente in prima commissione il disegno di legge. Quindi quello che stanno cercando di fare è solo un rimballo per guadagnare qualche settimana, nulla di più. Ma è un percorso irto di difficoltà quello delle migrazioni di Gela, Piazza Alberina e Niscemi a Catania perché ci eravamo già incontrati in altre circostanze e abbiamo detto che era tutto a posto ma invece così non è purtroppo al momento attuale. Diciamo che il Parlamento regionale su creare sorprese negative non ha rivali al mondo. Credo che questa fase ci abbia portato come democrazia ai livelli del Burundi e purtroppo dobbiamo prendere atto che questa classe politica e questi parlamentari a Palermo non rappresentano le reali esigenze della Sicilia e forse per questo motivo la Sicilia è ultima in Italia nelle gradatorie di sviluppo. Lei diceva e sosteneva che ora il tutto viene rimandato alla Presidenza della Regione Siciliana quando si parla di Presidenza della Regione e al Governatore e al Geleso Rosario Crocetta. Ovviamente tocca al Geleso Rosario Crocetta che dovrà nuovamente rinviare il DDL in prima commissione e stavolta ci auguriamo che se ha una maggioranza la mette in campo e faccia votare il DDL favorevolmente perché la situazione diventerà in ambito nazionale e internazionale molto imbarazzante. Qui è in gioco non più le scelte di Gela Piazza Almenia Niscemi e Lico di Obea qui è in gioco la democrazia e le regole basilari della democrazia. Anche perché in tutta la sincerità a cosa sono serviti il referendum e poi i sì dei vari consigli comunali per l'emigrazione? Se loro vogliono bocciare tutta questa iniziativa anche in questo caso creiamo un precedente in Italia diventerebbe la prima volta in Italia in cui un referendum confermativo non ha seguito. Questo loro lo sanno e non lo faranno infatti prendono tempo perché potevano inviarla in aula e bocciarla in aula siccome hanno capito che in aula sarebbe passata favorevolmente e quindi hanno preferito tornare indietro cercando di guadagnare qualche settimana. Bene, noi siamo pronti, siamo organizzati ieri abbiamo avuto una riunione con i comitati di Piazza Armerina e Niscemi abbiamo ragionato serenamente perché siamo più che tranquilli di quello che abbiamo fatto e di quello che i cittadini vogliono e la nostra unica forza è la volontà dei cittadini di voler cambiare i consorsi e questo non è controvertibile da nessuno nemmeno da loro che in questo momento si sentono degli dei dentro il Palazzo di Normanni. E per Jolensis Populus l'Assemblea regionale siciliana è forte con i deboli vediamo Dall'attentativo di prima approvazione della legge regionale sui liberi consorsi ad oggi abbiamo assistito ad un ridicolo gioco di forza fra politica regionale e nazionale quest'ultima chiamata in causa ad alcuni sindaci che pretendevano di godere degli stessi poteri dei colleghi del continente ci dispiace osservare che la battaglia fra questi alti rappresentanti del popolo si sia limitata a rettificare e correggere la legge non tanto per migliorare la condizione dei territori e rispettare la volontà popolare ma quanto per accrescere il potere gestionale della politica lo dice il portavoce del comitato Jolensis Populus Lilliana Bellardita ricordiamo con estrema amarezza sottolinea che all'inizio questa legge consentiva la creazione di nuovi liberi consorsi con una popolazione di 150.000 abitanti cosa che avrebbe consentito a Gela di poter realizzare il suo sogno di indipendenza poi però i deputati percepito questo pericolo decisero di complicare la strada per il nostro territorio innalzando il limite demografico a 180.000 abitanti è sconcertante osservare come in quel caso la politica trovò un veloce accordo alla luce di queste manovre è lecito chiedersi se il Parlamento Palermitano lavori per gli interessi dei siciliani o no attraverso la posizione presa ieri dalla prima commissione e dai capigruppo che propongono l'adeguamento della riforma delle province alla Nazionale della Rio in calza Jolensis Populus ci si china agli irremovibili dettami romani in questo frangente di ulteriori aggiustamenti legislativi proporremo al sindaco di Gela di mettere in campo ogni iniziativa scegliendo in maniera concertata professionalità che possano difendere la volontà popolare della comunità gelese dinanzi a questo ennesimo scempio e alla politica regionale di poter modificare anche il parametro demografico necessario per la formazione di nuovi liberi consorsi auspicando che lo stesso possa essere riportato a 150.000 abitanti così come era nella prima stesura della legge ma già pronostichiamo la risposta è oramai scontato pensare che Lars applichi il principio del debole con i forti colleghi romani e forte verso gli inermi cittadini siciliani oramai continua la nota è difficile aspettarsi che questa certezza venga sonoramente smentita e quindi il nostro auspicio è che si faccia giustizia del percorso fatto per un territorio che ha dovuto scegliere per la sua libertà e dignità di aderire alla città metropolitana di Catania ci auguriamo perciò che almeno ora le nostre rappresentanze a qualunque livello difendano la conquista democratica raggiunta dai gelesi dai piazzesi dai nicemesi e dai licodiani cambiamo argomento immediata risposta da parte dell'ordine degli avvocati di Gela preseduto da Ignazio Emmolo in merito a quanto annunciato dal comitato gelensis populus a proposito della revisione della geografia giudiziaria e della paventata soppressione della corte di appello di Caltanissetta l'ordine ribadisce quanto già espresso e cioè la piena adesione al progetto che prevede il mantenimento e il rafforzamento di tutti gli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Caltanissetta a cominciare dalla corte di appello presidi di fondamentale importanza per il territorio e le popolazioni interessate il consiglio dell'ordine intende perseguire tali obiettivi in un contesto di concordiazione con tutte le rappresentanze istituzionali dei territori interessati e riserva ogni ulteriore decisione nel segno della sua autonomia decisionale a tutela degli interessi degli iscritti all'esito dell'evoluzione della più ampia questione relativa alla revisione della geografia giudiziaria e al potenziamento della tribunale di Gela presidio la cui tutela e strategica importanza costituiscono i primari obiettivi che il consiglio perseguirà con tenacia un furto di cavi di rame è stato sventato la scorsa notte a Gela dai carabinieri alla stazione ferroviaria i militari dell'arma cortisi della presenza di persone che con fare sospetto si muovevano sui binari si sono avvicinati a loro e questi si sono dati a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce nello stesso posto i carabinieri hanno trovato dopo una attenta perlustrazione il materiale utilizzato per compiere il furto e i cavi asportati pari a quasi un chilometro tutti tagliati all'interno dell'area ferroviaria tutto è stato riconsegnato al personale dipendente di rete ferrovia italiana il quale ha ringraziato i carabinieri per la tempestività con cui sono intervenuti e con la quale sono riusciti a limitare i danni che sicuramente col protrarsi dell'azione criminale sarebbero stati ingenti considerata la grande disponibilità di rame presente all'interno della stazione cambiamo argomento al via la quarta edizione della primavera dell'arte è promossa dal gruppo archeologico Geloi Trischelion in calendario numerose iniziative che si svilupperanno al museo alle mura Timoleontè e ai bagni greci di Capo Soprano sentiamo quest'anno abbiamo un calendario importante di grande rilievo attività per tutto il mese di maggio cominceremo domani con le milioni in piedi organizzate dalla Green Sport la sera ci sarà l'inaugurazione della mostra d'arte presso il museo archeologico di Gela poi proseguiamo con una serie di mostre workshop e concluderemo il 21 maggio con la visita notturna alle mura un evento davvero incredibile e straordinario tra l'altro quest'anno la manifestazione è inserita tra i più importanti circuiti di promozione e valorizzazione della regione Sicilia nel dipartimento beni culturali in eventi e sagre in Sicilia in archeologia ritrovata e cosa più importante nella notte europea dei musei quindi all'interno di una piattaforma di promozione europea del patrimonio archeologico giorno 13 nelle vetrine che sono state regalate dal nostro club al museo archeologico di Gela verranno esposti dei reperti che escono per la prima volta dai depositi del museo e quindi è un modo di rilanciare un pochettino quello che è l'attività culturale della nostra città un museo senza ricerca e senza la conservazione dei beni non ha un futuro e quindi è giusto che noi rimarchiamo attraverso iniziative fatte anche fuori dal nostro istituto quello che si fa all'interno dei musei si inserisce all'interno di questo percorso la rete del cantiere Gela una serie di associazioni gruppi e movimenti che vogliono rimettere al centro la loro funzione pedagogica quindi per noi diventa interessante per ridare ai cittadini una sorta di cittadinanza che parte appunto dalla cura e rigenerazione dei beni comuni per questo motivo insieme il 15 maggio ci prenderemo cura di questo bene che sono i bagni greci di Capo Soprano per ridargli dignità l'obiettivo però è rendere perenne la presenza dei cittadini all'interno di questi beni noi stiamo organizzando per la primavera dell'arte una grande mostra di pittura laddove abbiamo invitato pittori di Gela e di Porre sono presenti Ottaviano di Ragusa pittori di Agrigento di Formigine di Milano di tutta Italia pittori come Tono Zanganaro Andrina Bertelli Antonio Chepindi di Gela che presenta tre bellissime produzioni e tanti altri pittori di Gela che sono il vanto della nostra città come Pinotucci che attualmente gli abbiamo realizzato una grande mostra andologica a Palazzo Ducale presentata dal consigliere comunale Giovanni Benebianco una interrogazione sulla mancata applicazione di una penalità ai danni della Tecra per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata che avrebbe dovuto toccare il 50% e quanto prevedeva il capitolato d'appalto in soli 30 giorni si sarebbe dovuti passare secondo una proposta migliorativa del servizio presentata dalla Tecra il 20 maggio di due anni addietro dalla soglia minima fissata dal capitolato il 35% alla soglia del 50% il capitolato prevedeva inoltre che per il mancato raggiungimento della soglia minima il 35% di raccolta differenziata sarebbe stata applicata una penalità per ogni punto o frazione di punto percentuale inferiore al 35% a carico della Tecra in favore del comune che doveva essere pari a 5.000 euro mensile per ogni punto o frazione di punto invece la percentuale di raccolta differenziata nel 2016 e al di sotto della soglia minima attestandosi su una media del 30% sembra necessario adeguare rileva Panebianco le penalità anche in relazione alla proposta migliorativa della Tecra la quale ha richiesto e ottenuto dal comune di Gela una riorganizzazione del servizio assicurando il raggiungimento della soglia del 50% ed oltre di raccolta differenziata Panebianco chiede dunque all'amministrazione comunale se sono state applicate al gestore del servizio le penalità previste per il periodo compreso fra gennaio 2015 e marzo 2016 ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità ed eccoci seconda parte del telegiornale Gela è stata scelta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile tra le poche città siciliane in cui si terrà una esercitazione con simulazione di rischio incendi l'attività partirà domani dalle 9 nel primo istituto comprensivo ad Albani Roccella la giornata conclude il progetto scuola multimediale di protezione civile all'appuntamento gelese saranno presenti tutti gli attori operativi coinvolti polizia municipale carabinieri polizia vigili del fuoco guardia forestale e protezione civile prevista anche la presenza del prefetto di Caltanissetta del vescovo di Piazza Medina e del sindaco di Gela dopo che l'autorità nazionale anticorruzione avrà dato parere al quesito posto sul codice degli appalti al comune di Gela potranno partire gli interventi di manutenzione su strade scuole ed edilizia cemiteriale per un importo che oscilla tra i 2 e 3 milioni di euro lo ha annunciato l'assessore comunale ai lavori pubblici di Flavio Di Francesco al consiglio comunale intanto l'ufficio di manutenzione retto da Angelo Scudera in queste ore è impegnato in varie zone della città sul fronte della scerbatura e della cura del verde pubblico lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento e unità della GELAS stanno operando anche negli spazi esterni delle scuole e cittadine interventi quasi terminati nei pressi del primo istituto comprensivo a Settefarine e ad Albani Roccella prossimi interventi sono previsti all'istituto Nicolas Green Siamo intervenendo su alcune scuole di periferia tra cui Albani Roccella dove abbiamo un importante evento giorno 6 della protezione civile nazionale in cui sono coinvolti vari enti tra cui vigili del fuoco forestale enti comunali quindi sarà un evento molto importante due soli eventi nella provincia di Caltanissetta quindi siamo intervenuti con il rifacimento dei piazzali esterni della polizia del verde devo dire che la scuola adesso anche la dirigente scolastica la professoressa marchiciana era molto molto contenta perché veramente abbiamo fatto degli interventi importanti abbiamo riqualificato con una scuola di periferia siamo intervenuti anche nella Settefarine in Pia Fuentes dove abbiamo fatto degli interventi con la polizia del verde grazie agli RMI che lavorano nel settore e anche grazie alla GELAS che è intervenuta con i suoi mezzi dopodiché interveremo anche nella scuola di Via Borromini dove lì c'è una condizione abbastanza problematica sul verde e faremo degli interventi sempre di gespugliamento la città in genere come dicevo ieri in consiglio comunale faremo degli interventi che riguardano le strade stiamo aspettando alcune note di spiegazione da parte dell'ANAC per quel che riguarda la nuova legge sul codice degli appalti quindi interverremo con delle gare di manutenzione quindi dovremo poter spendere tra i 2 e i 3 milioni di Euro in lavori di manutenzione per manutenzione intento manutenzione stradale manutenzione scolastica manutenzione edifici comunali edilizia cimiteriale e anche verde pubblico quindi conto di poter dire con certezza che insomma entro quest'anno riusciremo a fare queste gare per poter spendere questi soldi la sostenibilità passa attraverso la costruzione di forme sostenibili di mobilità in questo percorso l'educazione dei bambini è fondamentale una città vivibile e una città a misura di bambino dove gli spazi protetti e le politiche di moderazione del traffico permettono ai più piccoli di muoversi in sicurezza vivendo lo spazio cittadino la FIAB come ogni anno conclude la campagna nazionale bim bim bici a tutela della mobilità per i più piccoli con la pedalata di domenica 8 maggio in tutta Italia si parlerà dunque di mobilità sostenibile ai più piccoli e ai loro genitori come vi dicevamo l'appuntamento è previsto per domenica 8 maggio dalle 10.30 presso il piazzale antistante l'istituto Sor Teresa Valse a Macchitella proseguono i festeggiamenti per San Giuseppe promossi dal comitato e dai padri agostiniani a Gela oggi alle 18.15 regita dal Santo Rosario e Litania e alle 19 celebrazione eucalistica con riflessione omiletica è prevista per domani dalle 9.30 la mini Olimpia di Atletica Leggera l'iniziativa che si terrà alle mura a Timo Leontè è promossa dalla associazione Green Esport preseduta da Giuseppe Veletti lo sentiamo ai nostri microfoni siamo alla settima edizione rivalutare il nostro patrimonio artistico storico culturale con i giochi sportivi giochi sportivi dell'antica Grecia in un posto che era di dominio greco per cui una rivalutazione da parte dei bambini soprattutto proprio i bambini protagonisti di questi giochi in cui troveranno tutto quanto serve per arricchire la loro e dare valore al nostro patrimonio ma soprattutto per trascorrere una giornata di vita vita che significa anche voglia dei valori regole che permettono di rispettare non solo il parco ma tramite lo sport anche stile di vita vita sana e vita importante per una crescita sociale e civile si svolgerà domenica 8 maggio prossimo la manifestazione Gela Antica organizzata dalla scuderia Valvole Pistoni di Gela preseduta da Davide Millauro si tratta di un raduno di appassionati di auto d'epoca provenienti da Ragusa Piazza Merina Enna e Caltanissetta l'appuntamento è fissato per le 10 su Corso Vittorio Emanuele dinanzi al Museo archeologico dopo la colazione gli ospiti visiteranno lo stesso museo accompagnati dal direttore Ennio Turco e dal presidente dell'archeoclub di Gela Nuccio Mulè subito dopo intorno alle 12 si terrà la sfilata delle auto per le vie cittadine la pagina dello spettacolo è il bimbo di vetro il film in programmazione al Cineteatro Antitodo di Machitella a Gela sono tre gli orari ve li ricordiamo 17.30 19.30 e 21.30 e sabato 7 maggio sempre al Cineteatro Antitodo di Machitella alle 21 sarà portato in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela lo spettacolo Noi Donne ma soprattutto Madri l'appuntamento chiude la rassegna Teatro 2015-2016 promossa dal Piccolo Teatro Città di Gela abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie per aver guardato